Musica Weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e oggi ragazzi ho un sacco di novità proprio per voi riguardanti i prossimi giorni di Fortnite Un sacco, un sacco di roba ragazzi che sicuramente non vedrete l'ora di vedere Parleremo proprio oggi delle nuove armi, non della nuova arma, ce ne sono ben due che stanno per arrivare O forse che sono già arrivate, su Fortnite adesso lo vedremo Parleremo anche ragazzi di una roba incredibile, una nuova modalità o meglio un nuovo stile di gioco Che sembra essere stato scoperto da uno dei più grandi leakers mondiali E ovviamente ragazzi non mancheranno come appena anticipato un bel po' di leaks Un bel po' di roba interessante per tenervi sempre lì belli sfrigolanti come le fette di bacon Prima ragazzi però vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su Se ancora non lo avete fatto dai 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 un bel like ragazzi iscrivetevi in tantissimi al canale E attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento su tutti i miei video Vi ricordo che ci sono le soluzioni delle sfide di ieri se per caso non le avete terminate Ma prima ragazzi la domanda, la domanda di oggi e questa è importante raga Questa è importantissima perché tratterà anche di un argomento di cui parleremo dopo E se ritornasse il cubo? Ditemi un po' ragazzi la vostra opinione Ho delle notizie, voglio sapere cosa ne pensate Qual è la vostra opinione qua sotto nei commenti se per caso tornasse Kevin the Cube Il cubo, ditemi un po' la vostra idea Quindi ragazzi, ciancio alle bande e bando alle ciance Andiamo subito a parlare con Prott Sembra una... Sì, ma mi mostri le caccate? No ragazzi, no, non sono caccate ragazzi Questo è un tweet fondamentale di un leakers Che dice possibilità di una modalità trios Quindi vuol dire ragazzi che ha trovato nei file di gioco qualcosa inerente a un nuovo tipo di game in Fortnite Già ne aveva parlato qualche mese fa ma non erano niente di ufficiale Ma sembrerebbe che fra poco avremo informazioni aggiuntive sulla possibilità di giocare Oltre che in coppie, in singolo e in squad Anche in tre ragazzi E apprezzo questa cosa, mi piace l'idea Mi piace un botto l'idea che si possa giocare in tre Quindi ragazzi andiamo avanti E famma porca vacca Questa ragazzi, non me lo ricordavo neanche che c'era Questa è un'altra cosa interessantissima e incredibile ragazzi Siamo nel cuore del codice di Fortnite Proprio nel file, nei file sorgenti E come vedete ragazzi questa è una tabella che mostra tutti gli oggetti Le skin, le novità che dovevano essere rilassate Nelle tre settimane in cui il team di Epic Games non era presente in sede Quindi i tre update che hanno cominciato ad essere presenti da due settimane fa Come vedete ragazzi sono tante le parti verdi ma ce ne sono anche alcune rosse E molto probabilmente si parla di skin con tanto di piccone, backpack e deltaplano Non sappiamo nulla ma ce ne sono cinque ragazzi ancora non proposte, non pubblicate Ma che arriveranno quindi Tanto hype Non sappiamo assolutamente nulla ma prima del grande update di Se non ricordo male martedì prossimo Vedremo tanta roba ancora Tenete i V-Bucks Tenete i V-Bucks Andiamo avanti ragazzi e parliamo invece di una novità Ci sono delle news anche riguardante Salva il mondo Questa l'avete vista sicuramente C'è la sedia che dà a partire Vai via vai Come se c'era l'angolino qua rovinato Questa ragazzi è una icona che ci mostra come Ci siano delle modifiche su Save the World nell'evento Frostnight Da adesso se si va sui blocchi di ghiaccio Attenzione perché si perde l'equilibrio Si scivola insomma ragazzi Il terreno diventa molto molto sdrucciolebole Io non so ragazzi se state giocando all'evento Frostnight Ma qualcuno mi ha detto che con questo evento Ci sarà la possibilità di ottenere addirittura Uno standardo extra gratuito Non so ancora nulla quindi non gioco a Salva il mondo Anche ci entro tutti i giorni per prendermi i V-Bucks Però non ci gioco più come ci giocavo una volta Se qualcuno sa qualcosa me lo scriva qua sotto nei commenti Che è assolutamente ben accetto come consiglio E altra news ragazzi di Salva il mondo Un'arma che potrebbe essere portata anche sul Battle Royale È un fucile d'assalto ragazzi E come vedete ha la particolarità di avere la campanellina di Natale Lì davanti in modo che ti fa anche rendere conto Quando sta per attaccare Un'arma davvero molto interessante Perché vista così non lo so Può sembrare una specie di AK-47 Ci assomiglia ovviamente in stile Fortnite Ma veramente meravigliosa La mini ciminiera sopra E la mini campanella Tanto tanto stile di Fortnite Spero ovviamente ragazzi Di provarlo e di vederlo Anche su Battle Royale Perché l'ingresso di nuove armi È sempre una grande cosa Per noi giocatori del Battle Royale E andiamo avanti ragazzi Parlando invece di un tweet ufficiale Questo è direttamente il signor Sin Hamilton ragazzi Mr. Popo in arte Uno del team di Epic Games Che ci dice ufficialmente Il terzo e ultimo update Per la patch 7.10 Arriverà Monday Tuesday Venerdì Vabbè Tuesday ragazzi Io sono ignorante ragazzi Mi chiedo scusa Non ricordo Non è Saturday che è sabato Non è Sunday che è venerdì È venerdì Penso che sia Penso che No È Friday Giovedì È giovedì Arriverà giovedì Che cazzo ne so Comunque arriverà fra poco ragazzi Come vi dicevo Ufficialmente il terzo update Di Fortnite E potrebbe portare questo update ragazzi Quasi certamente La seconda nuova arma di cui vi parlavo Che è una roba fighissima Questa ragazzi è un'immagine Recuperata proprio dai file di gioco Chi ha visto i miei video L'aveva già vista qualche giorno fa Ve la ripropongo Perché è molto probabile Che sia inserita O meglio Noi lo speriamo È un Uzi ragazzi Quindi In poche parole Una mitragliatrice Che spara Veramente Velocissima Molto più veloce Della mitraglia Che abbiamo In mente Di solito Gli usi Si usano anche A coppia Non dico niente Rip due pistole Io amavo Le doppie pistole Ragazzi Mi piacciono veramente Tantissimo Non sappiamo ancora Le statistiche Ma non credo Che arriverà in modalità Leggendaria Secondo me Potrà essere in tre varianti La non comune La rara E l'epica Ci sta Diciamo Non è niente Di così esagerato Ovviamente Non vediamo l'ora Di provarla Insieme ragazzi A quello Che potrebbe Essere Un grandissimo Arrivo Un nuovo veicolo O comunque Un nuovo mezzo Di trasporto Che già Abbiamo visto E che è già Stato ritirato Il driftboard Ragazzi Questa immagine È molto Interessante Perché non si è capito bene Se sia presa Da un'immagine ufficiale O se sia presa Da chi aveva Semplicemente La skin Secondo me È un'immagine Ufficiale Non sono riuscito A capirlo Neanche io Ma il driftboard Ragazzi Sappiamo che Molto probabilmente Potrà essere Recuperato Dalle rastrelliere Dove ci sono Sci E snowboard Quindi probabilmente Potremo recuperarlo Da lì E ci servirà Appunto Per muoverci Nella mappa In maniera Molto Molto Più veloce Facendo anche Un sacco Di trick Che non Guastano Mai E chiudiamo Ragazzi Parlando Molto velocemente Di un Possibile È ufficiale Ragazzi È quasi ufficiale Questa è un'immagine Che sicuramente Vi ricorderete Parliamo Del trailer Della season 7 Sotto l'albero Di natale Ragazzi Tra i regali Nascosto C'è Un cubo Ragazzi Un cubo Viola Il cubo Viola Il nostro Cubo Che tutti Conosciamo E guardate Questa immagine Ragazzi Siamo nella Nostra lobby Principale Fatelo anche voi Se avete le mot Sexy da matti Utilizzandola Appena il personaggio È sdraiato Ragazzi Non ho Parole Ragazzi Non ho parole E che cos'è Quello È un cubo È il cubo Ragazzi Quello È Il cubo Io non lo so Riporto La domanda Che vi ho fatto All'inizio Del video Ragazzi Cosa cavolo Ne pensa Non voglio Che torna Il cubo Dai Io non voglio Che torna Il cubo Ragazzi Mi ha veramente Striturato le balle Quando c'era Voglio sapere Però cosa ne pensate Voi ragazzi Ci sono tanti Purtroppo Troppi elementi Che fanno pensare Ad un grande ritorno Beh ragazzi Io direi Che per questo video Siamo davvero Arrivati al termine Vi ringrazio Tantissimo Per Il vostro Like Per la vostra iscrizione Al canale E noi Ci vediamo presto Ciao Ciao